Se uno comincia a pensare alle disgrazie degli altri, finisce sempre col trascurare i propri interessi. Dico bene, Don Salvatore? Ma veramente, io non lo so. Comunque oggi è giorno di festa e bisogna stare allegri. Ma certo, state allegri! Oh, sta allegro tu, su! Eh? E voi non ve lo bagnate il becco? Oh, perdono, non volevo alludere. A ogni modo, state tranquillo che come arriva a Roma io lo dico a tutti. No, è che lui vuol far sapere a Roma che c'è... State tranquillo, vi sistemo io. Il segretario si è un po' preoccupato, eh? Che c'hai paura? Che vada a Roma che qui ha levato una nuova razza bovina? Una nuova razza? Le vacche da corsa. Saranno poche, ma si spostano da una fattoria all'altra a velocità incredibile. Cosa volete dire? Che voglio dire? Mangia tu che mangio io! Tutti ai rinfreschi! Omero, ma che cos'hai? Niente, forse ha bevuto un sorso di più e... Eh, quando papà sude è brutto segno, eh! No, ma di che ti preoccupi del fatto dell'aeroporto? Ma che... Puoi sempre di che ci allevi le ranotte. Come opera del regime, mica male! Una mano lava l'altra e tutte e due... Ammazza che saccoccia! Ciao! Grazie.